Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, martedì, anzi no, mercoledì 31 gennaio. I temi fondamentali sui giornali sono... sta un po' scemando lo scandalo delle liste, così è stato definito ieri, delle liste presentate un po' da tutti quanti i partiti. Oggi ovviamente ci si concentra su quelle di Forza Italia e su tutti quanti i magheggi fatti soprattutto in Campania, ma non solo, nel Lazio, in Abruzzo, insomma, questa pattuglia di giovani dirigenti che dovranno guidare il centro-destra non si vedono, tutt'altro. Ma vediamo sui temi un po' più politici che altro è successo. Prodi dice, beh, insomma, io direi che bisogna votare il PD e gli risponde subito Grasso, chissà perché, come per dire, così sbagli perché il PD di Renzi non va bene, cioè si sente offeso da questa dichiarazione di Prodi che, vuol dire, lascia il tempo che trova e secondo me chi se ne importa, sono veramente affari loro. La Boschi si candida, e oggi i giornali ne parlino, in sei diversi collegi. Travaglio oggi si esercita a prendere in giro un po' di candidati. Beh, devo dire che sulla Boschi si ha veramente un... cioè è una porta aperta, perché quando senti la Boschi, che nei confronti dei quali non ho una particolare antipatia, però quando la vedi a Bolzano che ti dice che è stato il partito a scegliere di candidarla là, e che se fosse stato... cioè non è lei che ha scelto di candidarsi là, veramente ti vengono... dici, ma questi ci prendono per i fondelli, ci hanno veramente la faccia come... cioè ti prendono veramente per i fondelli. L'altra cosa che riguarda, diciamo, la politica italiana è una piccola notizia, che forse non avrete notato, di una rencoglionita, di il... io dico è il senso di come c'è una specie di rimbambimento globale. Cosa succede? Ieri c'è una conferenza stampa di liberi e uguali, il partito di sinistra, presiduto da Grasso, quello della Boldrini, della Boldrini, della Presidenta, di tutte ste storie qua che ben conoscete. Fanno questa conferenza stampa alla Sala Estera di Roma, e in conferenza stampa ci sono, mi sembra, D'Alema, con altri due suoi colleghi di liberi e uguali. Una giornalista della CBC canadese, una deficiente, mi assumo la responsabilità di quello che dico, si alza e se ne va, e sapete perché se ne va? Troppi uomini. Siccome non c'era una donna a parlare di liberi e uguali, non accetta la conferenza stampa. Vi giuro, l'ho letto oggi sul Corriere della Sera, si alza e se ne va via! Si alza e se ne va via! Allora, tu prendi... Allora, secondo voi si può leggere un pezzo di questa cretina? Cioè, noi possiamo leggere un pezzo di questa persona e pensare che quello sia un pezzo obiettivo, tranquillo, non ideologico, non fanatico. Ma si può pensare, siamo arrivati al punto, che se una conferenza stampa è fatta da tre uomini, una donna che fa la giornalista non l'ascolta perché ci deve essere la parità di genere nelle conferenze stampa. Io, mi prende... Cioè, mi viene quasi di votare da lei, ma non esageriamo. Però, mi viene quasi... Ma siamo ridotti a questo limite del politicamente corretto. Ma cosa c'è nella testa? Ma come si fa a leggere una giornalista che si alza da una conferenza stampa perché ci sono solo tre uomini? Tra l'altro nel partito, che fa della battaglia di genere, anche secondo me in maniera ipocrita, però una sua grande battaglia. È allucinante, come dice Alessio. Allucinante. Va bene. La seconda cosa importante sui giornali di oggi è la relazione del Presidente Casini sulle banche. Va bene? La relazione del Presidente Casini sulle banche per cui Forza Italia esce, il centrodestra esce e qualcuno maliziosamente dice il più duro che ha votato contro perché non è uscito è un certo augello che non viene ricandidato. Bene. Questa relazione di Casini è... Vi leggo quello che scrive una nota del Sole 24 ore, documenti scritti da una compagnia di teatranti pronti a fare il bis di una tragedia trasformata in farsa. Questa è la realtà di quella commissione. I documenti e la relazione di Casini valgono zero, carta straccia, sono di interesse pari a zero, 43 audizioni, 150 ore di audizioni che non sono servite a nulla. Se non a piccole beghe politiche, i 5 Stelle contro la Boschi, Forza Italia contro la Banca d'Italia, insomma non è servita a nulla questa commissione bancaria, nulla, nulla. Eppure verrà fatto il bis. Chi la, diciamo, sanziona maggiormente oggi, mi sembra essere questo corsivetto inusuale del Sole 24 ore, che in genere non prende, prende, diciamo, posizione su nulla. Però, cari amici della zuppa, io ho fatto per una vita il giornalista finanziario. Cioè, io faccio quello che più o meno leggeva i Belanci, scriveva di economia e finanza, l'ho fatto per Class, per CNBC, per il Foglio, per il Corriere Economia, per il giornale negli ultimi anni. Questa è veramente la cosa che ho fatto. E quindi ho una certa attenzione nei confronti delle notizie finanziarie e dei piani industriali. Ieni, fin meccanica, che oggi si chiama Leonardo, che è guidata da Alessandro Profumo, un banchiere catapultato da Renzi a fare l'industriale meccanico, perché Finmeccanica è la più grande realtà, una delle più grandi realtà meccaniche italiane, metalmeccaniche italiane. Stiamo parlando di un'azienda che produce non solo segreti, non solo armi, ma produce tecnologia fondamentale. Beh, insomma, ieri presenta il piano industriale. Un piano industriale che il mercato gli fa schifo. Questo piano industriale del mercato gli fa schifo. Ieri il titolo in borsa ha perso il 12%. Sapete cosa vuol dire 12%? Non è un'esagerazione, è un crollo di un'azione, è un disastro. Probabilmente perché dovevano ripulire conti, non ripulire conti, il piano strategico non è considerato ambizioso, gli altri sono stati più bravi di Finmeccanica. Mi interessa relativamente. Ma il mercato ieri, che cosa ha fatto? Ha bocciato il piano di profumo di Finmeccanica. Finmeccanica è una piccola azienda? No, è la più importante azienda della difesa in Italia. La più importante è una delle poche grandi aziende italiane che tra l'altro hanno interessi in tutto il mondo. Oggi mi sarei aspettato dai giornalisti finanziari italiani, gli stessi che oggi si indignano con i politici, con la Boschi, con le banche, con Zonin che hanno sempre tenuto in palmo di mano, noi giornalisti abbiamo sempre tenuto in palmo di mano Zonin, se non trovarci oggi scandalizzati dal fatto che tutti noi sapevamo quello che avveniva. Bene, oggi cosa succede? Che i giornali non parlano di Finmeccanica. Non parlano! Vi faccio vedere il titolo del Corriere della Sera su Finmeccanica. Giuro, anche in questo caso, secondo Giulio in Giulietto che faccio oggi, Leonardo, il rilancio, Leonardo sarebbe Finmeccanica, Leonardo, il rilancio di profumo, ma Piazza Affari resta fredda. Resta fredda! Meno 12%! Meno 12%! Ma come il rilancio di profumo? Ma come si fa a leccare i piedi a un amministratore delegato di una banca? È come Zonin! È come Boschi Padre! È come l'MPS! Come si fa a fare un titolo così? Leonardo, il piano di rilancio di profumo, ma Piazza Affari resta ferma. Il titolo è Profumo non convince Piazza Affari, se vogliamo essere gentili con lui. Finmeccanica crolla a Piazza Affari, non il rilancio di profumo. Quando tu fai un titolo di questo tipo, sei in mala fede. Quando il sole 24 ore in prima pagina riesce a mettere nella colonnina di destra le dieci notizie più importanti della giornata, prima fa tutti i titoloni del giornale, tutte le cose, Finmeccanica è il penultimo titolino, quattro righe dedicate a Finmeccanica, cinque righe, cinque righe, cinque, cinque, cinque righe, poi rimanda a pagina 28. Questo è un titolo da prima pagina, metà pagina, crolla Finmeccanica, non perché io ce l'abbia con Finmeccanica o con Profumo, non me ne frega niente, ma perché siamo alla ricerca immediata, scandalistica di tutto, abbiamo un'informazione importante su una delle più importanti società italiane e non la scriviamo. Perché mi fa arrabbiare questa cosa? Perché io lo so quanti condizionamenti purtroppo noi giornalisti abbiamo, conosco la pubblicità, sappiamo che certe cose è difficile dirle, ci sono i rapporti personali, guardate, sono veramente un cinico in questo, ma tra il cinismo e quello che ho letto oggi su Finmeccanica, sui giornali, penso ci passi un mare, cioè un modo, un modo per fare il nostro mestiere lo dobbiamo trovare, non può esistere soltanto questo cacchio di Facebook, dobbiamo scrivere quello che succede, lo dobbiamo fare con forza, va bene? No Franco, io non posso essere così graffiante a Matrix, questo è uno strumento diverso, Matrix è una cosa, Radio 105 è un'altra e Facebook è un'altra ancora, e qua è un linguaggio tale per il quale se vi piace condividetelo. Insomma, avete capito che cosa ne penso di Finmeccanica, avete capito che cosa penso della mia professione, talvolta anche delle nostre censure, autocensure che ci facciamo, che sono il piccolo passo per il quale andiamo all'inferno. La scuola non è fatta per formare, ma lavoratori, ma esseri umani. Dietro questa frase, Roboante, oggi, Gramellini sul Corriere della Sera, spiega, e ridicolizza quel presidente della Confindustria di Cuneo, che dice abbiamo bisogno di operai, invece di studiare fate gli operai, semplificata così sembra una bagianata, poi però gli stessi che prendono per i fondelli il presidente dell'Università di Cuneo sono gli stessi che scrivono gli articoli dicendo che in Italia la disoccupazione giovenile è al 40%. E allora se è al 40%, spiegatemi per quale motivo il presidente degli industriali non può dire ragazzi, alcuni di voi, magari se facessero gli operai specializzati, e invece di lavorare a 800 euro in un call center con la propria laurea, forse, forse, quel 40% scenderebbe un pochino di meno. Detto questo, io vi do appuntamento come sempre a questa sera, abbiamo tanti ospiti questa sera, alti, bassi, divertenti, meno divertenti e politici, quindi vi invito veramente a guardare Matrix, a sentire 105 Matrix oggi a Radio 105. Condividete se vi piace questa zuppa, e poi come sapete, oltre a tutti gli appuntamenti, il sito nicolaporro.it con tutto quello che riguarda la zuppa e le sue cuginette. Ciao!